bentornati oggi vediamo un piccolo trucchetto per migliorare il nostro flusso di lavoro quando stiamo lavorando con in design andiamo ad aprire un documento che vogliamo trasferire all'interno di un secondo documento sostanzialmente quello che ci viene chiesto è da questi due documenti da questi due documenti qui ci viene chiesto di crearne uno solo per cui quello che facciamo è che apriamo entrambi i documenti quindi ce li abbiamo tutti e due qui ora scegliamo il documento in cui vogliamo travasare le nuove pagine in questo caso io voglio mettere le pagine del documento carta dei vini voglio aggiungerle al documento del menu quindi il documento del menu a 13 pagine allora io vado sul documento della sulla tab della carta dei vini che forse è anche più lunga ma uguale 13 pagine uguale ma non ha importanza io vado su questo documento vado su pagine e sposta pagine ora qui possiamo spostare le pagine all'interno del documento corrente ma possiamo anche spostarlo nell'altro documento che abbiamo aperto quindi nel documento menu digitale allora io seleziono il documento di destinazione seleziono tutte le pagine perché voglio spostare l'intero documento e seleziono dopo la pagina 13 quindi tutte queste pagine saranno in coda a questo documento gli dico ok e ce ne dovremmo accorgere subito perché ci sono infatti ci sono due copertine una di seguito all'altra perché questa era la fine del vecchio documento e questo è l'inizio del nuovo documento a questo punto io vado a cancellare questa ok e quindi qui avrò la tabella degli allergeni che è l'ultima pagina del menu e segue il listino dei vini ho inserito tutte le pagine senza dover stare a fare operazioni strane semplicemente le ho spostate da un documento all'altro e potenzialmente ho già finito potrei salvare il documento ed è finito così